amici di unibet eccoci qua ben ritrovati oggi commentiamo la partita di coppa italia inter bologna è un momento splendido per la squadra di pioli che viene da cinque vittorie consecutive il campionato come obiettivo ha già detto che alla coppa italia ci tiene quindi cercherà di vincere questa gara la squadra adesso gioca secondo me da squadra ha recuperato tantissimi giocatori e quindi è in un momento favorevole credo che non stravolgerà la formazione cercherà di far giocare magari due o tre giocatori che gli possono permettere di creare qualche alternativa e poi l'assetto tattico rimarrà credo quello il bologna viene da una splendida vittoria un campionato a crotone è una squadra in salute non ha pressioni quindi mi aspetto anche un bologna che venga che venga giocarsi la gara aperta e alla fine così facciamo un pronostico l'inter vincerà sicuramente secondo me per i tanti motivi che abbiamo elencato e quindi mi sbilancio 2 a 0 per l'inter sono sempre evaristo scusate se insisto